Salve a tutti, mi presento, sono Eloisa Atti e in questa cornice bucolica vi lascio presagire quello che sarà la due giorni di Zola Jazz & Wine. Vi voglio raccontare un po' come è nata questa collaborazione. Io ho parlato con le ragazze di Comunicamente del mio progetto che si chiama Everything Happens for the Best e è il progetto del mio quintetto con il quale da almeno 15 anni lavoriamo attorno alla figura di quest'artista, di Billie Holiday. Questo è un anno magico per noi perché è il suo compleanno, abbiamo deciso di realizzare il disco che si chiama proprio Everything Happens for the Best che presenteremo la serata del 20 giugno a Zola Jazz & Wine. Le ragazze di Comunicamente sono state talmente entusiaste, non mi aspettavo una cosa così e mi hanno proposto la direzione artistica. Io l'ho accettata con entusiasmo, ho avuto quest'idea di questo titolo che si chiama Two Days for Lady Day perché quest'anno il festival di Zola si svolgerà in due giornate, entrambe dedicate appunto a Billie per festeggiarne il centesimo compleanno. Prima del nostro quintetto ci sarà un duo molto carismatico, The Reverend and the Lady, composto da Mauro Ferrarese e Alessandra Cecala, che fanno blues rurale. Lei suona il contrabbasso, lui suona il banjo, la chitarra resofonica, la dodici corde, entrambi cantano. Ricordano anche questo stile New Orleans che poi verrà ripreso però con una risonanza appunto proprio da band, da band acustica, infatti sarà il giorno seguente in vigna la Breastband, la Parma Breastband in sestetto a intrattenere gli ospiti all'ora del tramonto nel prato, quindi senza cavi ma immaginatevi coperte, picnic sul prato e questo appunto vi voglio solamente dire che è la continuazione di un percorso che è cominciato praticamente con il Festival Jazz di Vignola, con Jazz in It, perché già il 14 giugno con Emiliano Pintori abbiamo fatto una lezione concerto su quest'artista, Emiliano Pintori oltre a essere un pianista sopraffino e anche un magico affabulatore, questo continua e sfocia nel nostro concerto del 20 che invece si svolgerà proprio in formazione intera con l'intero quintetto. Che dire, vi saluto con la filosofia che sta alla base di questa canzone scritta da Billie Holiday, che è proprio Everything Happens for the Best, che vuol dire tutto accade per il meglio. Ciao a tutti!